Il presidente Di Maio Il presidente Di Maio Non sono solo schiacciate di Chiara Cattaneo il nuovo acquisto della Stemar 90 che ha debuttato nella trasferta vittoriosa contro la Lazio. Buonasera e ben trovati alla TRC Giornale. Il presidente Di Maio Inoltre è stato pubblicato il nuovo avviso per l'asta che riguarda tutta l'area cantieristica. Vediamo il servizio. Una delegazione di ex operai delle ditte impegnate nel cantiere della ex privilege yard ha incontrato ieri mattina il presidente dell'autorità portuale Francesco Maria Di Maio. I lavoratori in tutta una decina erano preoccupati per aver visto movimenti all'interno del cantiere e hanno ricevuto rassicurazioni da parte del massimo esponente di Molo Vespucci che nel frattempo si era sentito con la curatrice falimentare la dottoressa Daniela De Rosa. Parlando con i lavoratori Di Maio ha spiegato che quello visto nel cantiere era solo un piccolo intervento tampone resosi necessario dopo le piogge delle ultime settimane e che i lavoratori di messa in sicurezza del cantiere per consentire alla società maltese Royalton di operare sullo scafo P430 acquistato lo scorso anno all'asta falimentare dovrebbero partire tra qualche settimana. Si attende infatti solo la conclusione dell'istruttoria avviata dall'ente portuale. I lavori di messa in sicurezza dovrebbero garantire per un certo periodo la ricollocazione degli ex addetti al cantiere. Di Maio ha anche rassicurato i lavoratori che anche in fase di aggiudicazione dell'asta per la vendita dell'intero cantiere verrà chiesto ai vincitori un piano industriale che preveda la tutela dell'occupazione locale nella fase di subentro della concessione. E proprio riguardo la vendita dell'intero cantiere arrivano ulteriori novità. Infatti proprio ieri è stato pubblicato il bando su un sito specializzato. Gli eventuali acquirenti avranno tempo di presentare le loro offerte fino al prossimo 19 aprile. Sembra, ma finora si tratta solo di un'indiscrezione, che la società maltese che ha acquistato lo scafo del P430 abbia manifestato l'intenzione di non partecipare e di essere più interessata a trasferire altrove il megayacht, dopo che saranno stati ultimati i lavori di messa in sicurezza. E si apre uno spiraglio per gli ormai ex lavoratori di Royal Bus. Come accennato nei giorni scorsi, gli stipendi arretrati dovrebbero essere corrisposti direttamente da Port Mobility a scomputo delle fatture di dicembre dei primi 12 giorni di gennaio, che avrebbero dovuto versare nelle casse della Royal Bus. Stamattina gli autisti sono stati negli uffici della società di trasporto Civitavecchiesa a ritirare la lettera di licenziamento collettivo e a farsi fare i conteggi esatti delle spettanze. Nel frattempo hanno dato i propri IBAN a Port Mobility, che dovrebbe provvedere al saldo entro pochi giorni, se non addirittura già a partire da domani. Riteniamo inaccettabile il modo con cui il Comune sta gestendo l'appalto della SGM. E' quanto sostiene il Comitato Zingaretti, che con il rappresentante Stefano Giannini invoca l'intervento del Palazzo del Pincio, alla luce del ritardo nel pagamento degli stipendi denunciato nei giorni scorsi da alcuni lavoratori. E passiamo adesso ad una notizia, un avviso che riguarda la protezione civile. A partire da oggi l'allerta meteo di codice giallo per pioggia moderata a tratte di forte intensità. Due anni e quattro mesi è la pena alla quale è stato condannato il 32enne Civitavecchiese, autore della rapina mano armata dello scorso 29 giugno, ad uno smorso che si trova in via Donna Milani, quasi all'incrocio con via Terme di Traiano. Casco integrale in testa, guanti e pantaloni neri, il malvivente aveva minacciato con una pistola i titolari, intimandogli di consegnare il contenuto della cassa di circa 3.000 euro. Preso il bottino, il rapinatore si era poi dato alla fuga nelle campagne circostanti, ma era stato comunque individuato e fermato dai carabinieri. Dopo qualche giorno al carcere di Borgata Aurelia, il ragazzo era stato scarcerato ed era passato agli arresti domiciliari. Per quel che riguarda la rifurtiva, solo una piccola parte era stata recuperata immediatamente dopo il fermo. E nessun pericolo di meningite per il di contagio, per il caso di meningite che ha colpito un 68enne di Cervetri. E' quanto fanno sapere dalla ASL Roma 4. Intanto la donna è ancora ricoverata al Gemelli di Roma. Vediamo. Non è una forma contagiosa la meningite che ha colpito la 68enne di Cervetri ricoverata in prognosi riservata da ieri al Policlinico Gemelli di Roma. La donna, che si era sentita male in un locale affollato, era stata inizialmente trasportata all'ospedale San Paolo di Civitavecchia, dove i medici dell'annosocomio, vista la gravità della situazione, ne hanno disposto il trasferimento al Policlinico Romano, dove sarebbe tuttora ricoverata in prognosi riservata. A rassicurare i cittadini, soprattutto quanti sono venuti a contatto con la donna, che avrebbe manifestato i sintomi della patologia, mentre era in un locale affollato, è stata la ASL Roma 4. Da notizie apprese, scrive l'azienda sanitaria, che ha sede a Civitavecchia in Betelme di Traiano, la meningite che ha colpito una paziente di Cervetri risulta essere una forma non contagiosa. Pertanto non sussiste alcun pericolo di contagio per gli eventuali contatti. 5 stelle all'attacco della ASL Roma 4. Il consigliere regionale David Porrello chiede le scuse ufficiali della direzione, perché nel dicembre scorso, sulla pagina Facebook dell'azienda sanitaria, è stato condiviso un invito a partecipare a un evento elettorale di Nicola Zingaretti. Un fatto grave, dichiara Porrello, che parla di occupazione continua da parte di Zingaretti e del suo staff delle istituzioni regionali. L'ex sindaco Gianni Moscherini è stato assolto dalla Corte dei Conti dall'accusa di danno erariale che l'era stata mossa relativamente al denaro utilizzato per il progetto di restyling del mercato e per HCS. Ma sentiamo direttamente Moscherini in questa intervista. Moscherini, allora, una conferenza stampa per dire che è arrivata una soluzione in merito a una indagine che riguardava appunto la Corte dei Conti per un danno erariale riferita al mercato ed HCS? Sì, è riferita all'appalto del mercato e poi quella più pesante era HCS, praticamente il comune ha in primis il sindaco che ha detto si sarebbe, come si dice? Costituito parte civile. Costituito parte civile, eccetera, eccetera, dove mi si chiedeva di restituire alla città un milione perché è quello all'incirca che io avevo fatto perdere al comune. Abbiamo aspettato un po' di anni che è tutto il periodo della sua amministrazione per avere finalmente una sentenza della Corte dei Conti a me favorevole perché dice che non c'è alcuna responsabilità, quindi piena assoluzione e quindi riconoscimento che la responsabilità, cioè che il sindaco Moscherini non ha compiuto nessun danno al comune, punto. E quindi non c'è danno erariale, non deve dare indietro niente a nessuno. Oltre a questo però molte critiche anche nei confronti di questa amministrazione non solo per questa vicenda, ma perché? Ma perché bisogna dare voce a quello che i cittadini pensano e dicono sottovoce. Io voglio cominciare a dar voce e raccontare quello che è stato fatto in questi quattro anni, pezzo per pezzo, capitolo per capitolo, cominciando da quello che è successo a me. Ho iniziato oggi, continuerò nei prossimi mesi. Significa che è iniziata la campagna elettorale di Gianni Moscherini? Per eventualmente un posto di nuovo al comune. Comincia un atto di giustizia nella politica distrutta e sconvolta da questa setta che è quella dei grillini, così almeno diciamo come si chiama. Adesso il caposetta pare che se ne va, quindi ci avremo il suo successore che è pure una persona simpatica, almeno Di Maio mi sembra molto più simpatico di tanti che se ne vedono intorno. Comunque, la battaglia politica è l'impegno politico che prescinde dai colori e dalle bandiere. Siccome questi signorini hanno trascorso quattro anni, questa setta ha trascorso quattro anni alla guida di questa città, adesso vediamo cosa hanno fatto in questi quattro anni. Il presidente della commissione commercio, Lorando Rolando La Rosa, ha convocato due sedute dell'organismo per parlare del prossimo restyling a Piazza Regina Margherita che si farà grazie al 1.100.000 euro stanziati nel piano triannale delle opere pubbliche. La Rosa spiega che ha ritenuto opportuno coinvolgere anche i consiglieri comunali nello svolgere le audizioni dei rappresentanti di categoria, i quali potranno fornire spunti di riflessione preziosi per permettere agli operatori del mercato, nelle migliori condizioni, ed evitare di ripetere i errori fatti da chi, a suo dire, progettò e fece dei lavori senza consultarsi con chi il mercato lo vive ogni giorno. È stata firmata dal sindaco di Civitavecchia Antonio Cozzolino la nuova convenzione tra Comune e Soprintendenza per la gestione del complesso monumentale delle Terme Taurine. Soddisfatto per il nuovo accordo che ha durata di 10 anni l'assessore all'ambiente Alessandro Manueda. Dopo l'approvazione in giunta del 22 gennaio scorso è stata firmata dal sindaco Antonio Cozzolino la nuova convenzione tra la Comune di Civitavecchia e Soprintendenza per la gestione del complesso monumentale delle Terme Taurine. Il nuovo accordo tra gli enti prevede una durata di 10 anni rinnovabili. Siamo particolarmente soddisfatti di questo nuovo accordo per la tutela e la valorizzazione del complesso archeologico monumentale delle Terme Taurine, dichiara l'assessore all'ambiente e ai beni culturali Alessandro Manueda. Un accordo che rafforza la collaborazione con la sovrintendenza, proprietaria dei resti archeologici e con una convenzione di maggior durata, 10 anni al posto dei tre previsti in precedenza e per la piena unità di intenti riassunta nel documento. Si era evidenziata, precisa all'assessore, l'oggettiva necessità di garantire una gestione e una fruizione del sito archeologico che fossero conformi ai criteri previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal codice dei beni culturali. Per questo, entro i prossimi tre mesi, il Comune procederà ad attivare un'apposita procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto gestore. Colgo l'occasione per ringraziare la sovrintendenza e gli uffici comunali che hanno lavorato alla definizione di una nuova convenzione. Sono certo, conclude Manueda, che nei prossimi mesi la fattiva collaborazione tra gli enti che riguarda tra l'altro anche le ricerche archeologiche alla Ficoncella Quetauri promosse dal Comune e dalle Università Alma Mater di Bologna e Sapienza di Roma con la fondamentale collaborazione della Società Storica Civitavecchiese oltre alla valorizzazione delle testimonianze archeologiche e alla Frasca che a breve potrà essere avviata dall'autorità portuale potrà consentire il raggiungimento di risultati sempre più significativi. E tornano Targa System e Autovelox. Il comando della Polizia Locale di Civitavecchia ha diffuso giorni e zone nelle quali durante il mese di febbraio saranno utilizzati due sistemi per il controllo delle violazioni al codice della strada. Il Targa System sarà utilizzato tra le 8.30, le 13 e tra le 15 e le 19.30. Le strade visitate dal Targa System saranno le seguenti via Prato del Turco, via Le Baccelli, via Le della Vittoria, via Terme di Traiano, via Le Matteotti, Corso Marconi, via Trieste, via Roma, via Le Garibaldi, via Rodi, via 26 Settembre, via Crispi, via Santa Fermina, via Le della Repubblica, largo Matteuzzi, via Montanucci, via Bencegatti, via Don Milani, via Dei Prati Dominicani, via Aurelia Sud, via Traiana, Corso Centocelle, via Limitrofe, via Alberto Mario, lungomare Town de Revelle, piazza Fratti e Limitrofe, piazza Saffi e Limitrofe. Per quanto riguarda invece l'autovelox, sarà collocato lungo la via Aurelia nel tratto compreso tra il km 76-128 e il km 80. Sarà attivo dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19. E il Partito Democratico di Ladispo interviene sull'aumento del 6% dell'Atari 2018 e sulle spiegazioni date dal sindaco Alessandro Grando, che ha puntato il dito contro la precedente amministrazione per il rencaro che quest'anno subiranno i cittadini. Ormai siamo quasi al ridicolo, tuonano dal PD, sottolineando che il piano tariffario e il piano del servizio 2018 è stato fatto a proposto dall'attuale amministrazione Vale per il Futuro. Per i dem inoltre le parole del sindaco contengono gravi accuse e funzionari che hanno redatto il piano finanziario Tari, il piano dei servizi di igiene e tutti i responsabili che hanno certificato la giustezza delle relazioni e firmato le bozze di delibera 2017, approvate poi dal Consiglio Comunale. Prendiamo atto che purtroppo gli amministratori non hanno il coraggio di assumersi la responsabilità derivanti dal loro ruolo, concludono dal Partito Democratico Ladispolano. E nasce oggi un nuovo gruppo consigliare denominato Noi di Ladispoli, parte integrante della maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Alessandro Grando. Con queste parole il neo capogruppo Marco Fioravanti ha annunciato di aver protocollato la comunicazione ufficiale della nascita del gruppo consigliare. Il gruppo sarà formato anche da Manuela Risso e Emiliano Fiorini. Doppia soddisfazione per l'artista iperrealista Giancarlo Di Gennaro. Due delle sue opere, Il Marinaio e Catene, hanno infatti ricevuto importanti riconoscimenti, i particolari in questa nostra intervista. Altro riconoscimento per Giancarlo Di Gennaro, il bellissimo quadro dal titolo Il Marinaio. Giancarlo, che premio hai ricevuto e che sensazione è stata? Sì, questo è un quadro che avevo praticamente oramai quasi archiviato, se vogliamo, perché è un quadro che ha già qualche anno e dove peraltro continuo a vedere tantissimi difetti, perché poi io sono andato avanti. però l'ho presentato all'Accademia Internazionale di Significazione Arte e Poesia, che è un'accademia romana e hanno fatto la premiazione in una location bellissima in un castello vicino a Roma, le porte di Roma, ed è risultato fra i vincitori. E quindi è una cosa che mi ha fatto particolarmente piacere, c'è una pubblicazione per i vincitori e mi è piaciuto sottolinearlo. Un giusto riconoscimento per un tuo lavoro, Giancarlo. Dall'altro anche un altro quadro tuo, le catene, altro riconoscimento. Per ora è stato solo selezionato dal Museo Magma di Villa Citro, che anche lì viene indetto un concorso internazionale. I finalisti hanno diritto poi a tre personali in tutta Italia, a Bologna, Urbino e Milano, è un premio importante anche quello, e andrò con quest'ultimo lavoro terminato, le catene. Lavoro terminato, però ce ne sono altri già in cantiere? Ce n'è un altro in cantiere sulla falsa riga di questo, perché a me piacciono molto questi contrasti luce-ombra, dove la luce arriva, dove la luce non arriva, e quindi è nero, nero. E quindi sto facendo un altro lavoro dove ci sono delle catene, c'è un moschettone, c'è molto ferro, ci sono delle corde, perché è un'immagine che ho preso al porto. Giancarlo, come li scegli, i soggetti, per i tuoi quadri? Dunque, questo fa parte del mio stile, o almeno così dicono. Ora, al di là della maestria nell'uso della matita, che mi riconoscono essere una delle più raffinate in circolazione, c'è anche, diciamo, piacciono anche questi soggetti, questo tipo di nature morte, molto particolari, e questo è il vero iperrealismo, peraltro, e cioè rendere più reale una cosa che altrimenti sarebbe risultata del tutto insignificante, lo sguardo non ci si sarebbe soffermato nemmeno per un attimo, invece io con i miei lavori rendo un particolare insignificante e un, diciamo, un lavoro piacevole. Ed è il vero significato di iperrealismo è questo, che è diverso da realismo fotografico. L'istituto comprensivo, la Dispoli 3, diventa istituto Caravaggio. La cerimonia, ha spiegato l'assessore alla manutenzione del patrimonio comunale Francesco Prato, è stata ospitata nella sede della scuola secondaria di primo grado del Plesso Ghirlandaio, e ha coinvolto docenti e alunni che hanno mostrato ai presenti tutte le attività che la scuola organizza in orario scolastico e destra didattico. Nella stessa giornata, il sindaco Alessandro Grando ha inaugurato la riapertura dei locali della scuola media, dovuta ad alcuni lavori strutturali e impegnandosi a proseguire l'opera di riqualificazione e decorazione delle aule dedicate ai ragazzi della secondaria di primo grado. Le associazioni animaliste di la Dispoli trovano finalmente casa. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato una delibera per affidare alle associazioni l'ex sede della Croce Rossa di Palo Laziale. Il documento, portato all'attenzione della massima assise cittadina, va nella stessa direzione della mozione presentata nel 2014 dall'allora consigliere d'opposizione Alessandro Grando. Quattro cantautori, un attore presentatore ed un progetto di musica sperimentale. Sono questi gli ingredienti dello spettacolo Fatti di Musica che andrà in scena al nuovo Sala Gasman domani alle ore 21. Ospiti speciali della serata, i Project Score che presenteranno un estratto del loro ultimo lavoro che unisce musica sperimentale e proiezioni video. Bene, termina qui l'edizione del nostro telegiornale. Restate con noi perché tra qualche istante arrivano le notizie di Sportime 24. Arrivederci. Avifer realizza porte e cancelli, finestre in fissi in alluminio e PVC. Avifer di Vigliante, Elvio e Luca è in via Nenna 9A in zona industriale. Avifer realizza porte e cancelli, finestre in fissi in alluminio e PVC. Buonasera da Sportime 24, apriamo questa edizione con il basket. Cristian Cattaneo si presenta, il nuovo acquisto della Stemmar 90 cestistica ha infatti debutato nell'ultima gara vinta sul campo della Lazio realizzando i primi quattro punti della sua nuova esperienza in rosso-nero, ma conosciamolo meglio in questa intervista. Cristian Cattaneo si avvicina alla partita contro Wisdomar che è molto importante, visto che siete il sesto posto, però a due punti al terzo posto anzi praticamente per giungere in caso di vittoria contro la Pelicana, quindi che partita sarà secondo te? Sarà una partita dura, loro hanno diversi giocatori di categoria superiore come Piccolo, Ceren Grilli con cui ho giocato l'anno scorso e il top scorer del campionato. Sarà una partita molto fisica perché loro sono una squadra fisica, quanto noi o di più. Loro sono due punti in meno di noi, noi abbiamo una partita da recuperare, quindi speriamo di vincere queste due partite per arrivare al terzo posto. Tu sei uno dei nuovi acquisti di questa Stemar 90 assieme a Diei, come ti sta trovando in questa squadra in questi primi giorni? No, mi sto trovando bene con i compagni, ho installato subito un buon rapporto, l'allenatore lo conoscevo già, lavoriamo bene in palestra ogni giorno, clima diciamo professionale, da categoria superiore secondo me, e niente, speriamo di far bene. Il soprannome che hai è Erkata, purtroppo Google non perdona in questi casi, come mai, come è nato questo soprannome? Niente, io tre anni fa avevo fatto un torneo estivo 3 contro 3 e c'era un gruppo che si chiama Damove, che fa freestyle, gara delle schiacciate così, mi hanno visto che saltavo, comunque per l'età che allora avevo 17 anni, 16-17 anni, allora mi hanno dato loro questo soprannome, diciamo Erkata così, e da lì è nato, e niente, con loro d'estate faccio tour, gara delle schiacciate così. E poi questo fatto che hai il Rasta, però anche l'accento Lombardo. Ah sì, sì, sono nato a Milano, però c'ho il Rasta, diciamo che, sì, sì, no, milanese, 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 sì, sì. Ebbene, lasciamo il basket e passiamo alla palla a nuoto, la gara di sabato dell'NLSNC nella vasca del Bari si giocherà allo stadio Albanese. nel capoluogo pugliese. In un primo tempo il match si sarebbe dovuto disputare nel campo neutro perché l'impianto dei Galletti aveva subito una giornata di squalifica, ma c'è stato un cambio di programma. La società barese ha infatti inoltrato un ricorso alla Fin che lo ha accettato e quindi il match si giocherà regolarmente a Bari. La FIPAV Lazio invece ha sorteggiato i gironi della prima fase della Coppa Lazio di Serie C di palla a volo. Parteciperà al torneo anche la Margutta Asp che è stata inserita nel gruppo di avversarie del Sestetto di Taranta, lo Zagarolo e la Virtus Roma in un girone di sola andata dove solo la prima si qualificherà per le semifinali. L'esordio di Iengo e compagni è previsto per il 7 febbraio sul campo dello Zagarolo, tra l'altro già sconfitto in campionato per 3-1. Sarà un fine settimana a letto invece per Damiano Lestingi. Il tritone della Niene sarebbe dovuto partire domani per la Svizzera per gareggiare al meeting internazionale di Uster, ma in realtà il Civitore Chiese non sarà ai blocchetti di partenza, affermarlo una brutta influenza che l'ha costretto a rinunciare alla competizione. Sarà invece una domenica speciale, la prossima per gli appassionati di Atletica. Al Moretti della Marta andrà in scena la sesta edizione di Semplicemente Ricordando Oscar, manifestazione non competitiva che nasce con l'obiettivo di ricordare la figura di Oscar Barletta, storico atleta ed allenatore. Ci sarà anche una piccola mostra fotografica alle 8.30 all'Olimpionica Roberta Brunetta, allenata in passato proprio da Barletta, darà il via alla giornata in diretta telefonica. Ebbene termina qui questa edizione di Sportime 24, subito dopo la sigla il meteo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.